Io sono arrivato a 80 anni, lui purtroppo gli è capitato troppo presto. Il giorno dopo la tragedia che è costata la vita a Jacopo, qui a Santa Caterina Valfurva, gli attestati di solidarietà, le testimonianze e i ricordi legati al più piccolo dei tre fratelli compagnoni vengono un po' da tutti, misti ad una profonda incredulità e squarciano quel silenzio che pervade questa giornata di sole. E proprio Deborah oggi scrive, la perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo, un papà e un marito meraviglioso. Il corpo del quarantenne, guida alpina esperta e maestro di sci, investito ieri da una valanga mentre scendeva il canale nord del monte Sobretta, Alpi dell'Ortles a circa 2850 metri di quota, assieme ad un amico, oggi riposa nello chiale alpina, la dimora della famiglia amata da tutti qui a Santa Caterina. Forse la montagna ha voluto avere uno dei suoi migliori uomini, comunque sono veramente addolorato perché lo conoscevo personalmente, era un ragazzo veramente a posto, un ragazzo che faceva le cose con grandi, grandi, grandi dovizie particolari. Jacopo era una persona conosciuta come Libera, una persona, padre di famiglia con due bimbi, per cui è un dramma della comunità ma di una famiglia, ma sono drammi che purtroppo la nostra comunità ha avuto anche negli ultimi anni con morte di giovani padri sempre in montagna, per cui, ripeto, non ci sono a molte parole se non chiuderci nel dolore. Noi siamo tutti costernati proprio per la morte di Jacopo, ci ha lasciati attoniti proprio senza parole. Siamo vicini alla famiglia, ecco. Lui era veramente il simbolo della sicurezza, verso di lui prima e verso la sua famiglia e verso i suoi clienti. La fatalità si è accumulata, un po' il tempo, un po' la neve. Sono cose che non si può dire perché succedono. Anche se uno sta attento tutta la vita, può succedere. E purtroppo siamo qua in un momento molto brutto, mi fa fatica per me parlarne, ecco. Martedì mattino alle 10. Era lì che infatti stava programmando questa salita, che doveva fare delle riprese. Io ho fatto la guida alpina come ha fatto lui per parecchi anni. Adesso ho superato gli 80. Era un rincalzo, un rinnovo della nostra valle perché lui era veramente uno capace. E parlavamo spesso assieme perché le montagne che ha fatto lui le ho fatte prima io. La montagna è un pericolo sempre che non ci si aspetta. Jacopo è sempre stato un professionista, amante della montagna, amante del suo lavoro. E la sua passione era sempre trasmessa anche ai più piccoli. Jacopo era uno spirito libero e la sua passione era cercare la polvere, come lo diceva lui, la neve. E ha vissuto nella sua passione fino all'ultimo istante. I funerali di Jacopo Compagnoni, che lascia la moglie Francesca e due figlie, avranno luogo domani alle 14.30 nella chiesa parrucchiale di San Nicolò Valfurba.